Ciao bambini, eccomi qua per il nostro appuntamento di scelte. Vi ricordate che un po' di tempo fa abbiamo piantato i semi dei pomodorini? Ecco, li abbiamo piantati nelle uova. Vi siete presi cura di loro? Io sì, e adesso vi faccio proprio una bella sorpresa. Guardate come sono diventati. Tadà, eccoli qua, guardate. Addirittura le radici sono uscite da sotto. Questo significa che i pomodori, le radici, hanno bisogno di più terra, che in questi vasetti piccoli, che sono le uova, appunto, non ce n'è a sufficienza. Adesso noi ci troviamo in questo momento della crescita delle nostre piante. Siamo partiti da qui. Siamo partiti dal semino che abbiamo piantato, poi è germinato, e poi sono spuntate due foglioline. Adesso, che sono spuntate due foglioline, bisogna trapiantarli nella terra. E ricordatevi che per crescere bene i pomodori hanno bisogno di sole, acqua, e di tutto il vostro amore. Buon lavoro! Ci serviranno, del terriccio, una paletta e uno o più vasetti. Riempire il vasetto di terra circa fino a metà. Rompere delicatamente il guscio dell'uovo. Separare con delicatezza le radici dalla terra. Estrarre la piantina dalla terra, facendo attenzione a non romperla. Fare un piccolo buchino nella terra e inserire le nostre piccole piantine. Infine, aggiungere il terriccio e pressare un pochino la terra. Ecco, bambini, questa è la mia piantina. Mi raccomando, prendetevi cura di loro e se avete piacere, mandatevi le foto all'indirizzo di posta elettronica che trovate sul sito dell'istituto. Un bacione! Grazie! 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 Grazie!